Proseguono gli incontri formativi di Anci Piemonte sul territorio. Oggi a Cossato nel Biellese si parla di risorse europee. Sì, Anci Piemonte da qualche tempo ha aumentato moltissimo la sua attività sul territorio. Facciamo numerosi incontri su vari temi e riusciamo a raggiungere capillarmente tutte le zone del Piemonte, quindi i 1200 comuni hanno spesso la possibilità di avere un incontro Anci tematico vicino a loro, perché il nostro compito è quello di uscire dal palazzo centrale di Torino e andare a trovare i comuni nei loro territori. Un incontro come questo è fondamentale perché oggi tra pochissimi posti in cui andare a prendere qualche soldo c'è rimasta l'Europa, ma non è facile. Non è facile per una serie di motivi, per cui un incontro con persone così preparate come abbiamo cercato di portare noi qui del Lanci è un incontro utile per poter spiegare ai comuni come fare per accedere anche a questi fondi. Non è l'unico tema che trattiamo, per certo una serie di tematiche che andiamo portando in giro, perché noi vogliamo essere ancora di più una interfaccia a disposizione dei comuni per qualunque tipo di problema. Anci Piemonte sta mettendo in campo impegno e risorse umane per venire incontro alle richieste dei comuni. Di recente è stata costituita proprio la centrale operativa dei piccoli comuni. Noi abbiamo fatto un'operazione che si chiama la centrale operativa dei piccoli comuni che è il punto terminale di una serie di iniziative che abbiamo preso da un anno e passa a questa parte che ha fatto sì che rinforzassimo l'Anci come personale interno per poterlo mettere a disposizione proprio di tutti i comuni piemontesi. Ho partecipato volentieri a questa giornata organizzata da Anci per dare informazione ai piccoli comuni del territorio, in particolare oggi ci troviamo a Cossato, per informare appunto gli amministratori e i funzionari pubblici su quelle che sono le opportunità che l'Unione Europea offre ai cittadini dal punto di vista dei finanziamenti, ovviamente. Un escursus che è partito da una distinzione tra fondi diretti e indiretti, che si è poi evoluto con quelle che possono essere le fonti di informazione, che si è chiuso poi con la progettualità, quindi una parte pratica sul project cycle management. Anche in questa nuova edizione del 2017 abbiamo proseguito sulla scia dell'iniziativa dello scorso anno, stimolare l'interesse dei piccoli e medi comuni del Piemonte ad approcciare le risorse europee ci è sembrato un ambito assolutamente da seguire e da proseguire.